I sei esercizi di Rudolf Steiner, voce di Marisa Vacca Avvertenza dell'editore Il presente volumetto presuppone una conoscenza del pensiero di Rudolf Steiner, in particolare di quella parte della sua opera dedicata alla meditazione. Si consiglia perciò la lettura preliminare dell'iniziazione e la scienza occulta. Sono riuniti qui alcuni brani in cui Rudolf Steiner parla degli esercizi. Si potrà constatare, come siano d'aiuto, al lavoro quotidiano sugli esercizi, le diverse sfumature tra un testo e l'altro, benché il tema rimanga ovviamente il medesimo. Primo brano Regole generali che deve porre a se stesso chi voglia compiere un cammino evolutivo occulto. Si troveranno descritte qui di seguito le condizioni che devono essere alla base di un'evoluzione occulta. Nessuno dovrebbe pensare di poter progredire se non adempie a queste condizioni, qualunque regola segua nella sua vita interiore o esteriore. Tutti gli esercizi di meditazione, di concentrazione e di altro tipo diventano infatti privi di valore e, da un certo punto di vista, addirittura dannosi se la vita non viene impostata secondo queste regole. Non si tratta di fornire all'individuo nuove forze, bensì di sviluppare quelle che già esistono in lui. Da sole esse non si sviluppano, perché trovano impedimenti interni ed esterni. Quelli esterni vengono rimossi con le regole di vita indicate qui, quelli interni grazie a particolari indicazioni sulla meditazione e la concentrazione. La prima condizione è l'acquisizione di un pensiero perfettamente chiaro. A tale scopo, sia pure per breve tempo, anche solo per cinque minuti ogni giorno, meglio ancora se per più tempo, ci si deve rendere liberi dal confuso vagare dei pensieri. Bisogna diventare padroni del proprio mondo di pensiero. Non se ne è padroni se le condizioni esterne, lavoro, tradizione, relazioni sociali, persino l'appartenenza a un certo popolo, l'ora del giorno o i doveri da compiere, determinano un nostro pensiero e il modo in cui si sviluppa. Occorre dunque, nel breve tempo accennato, poter svuotare completamente l'anima, per libera volontà, dal corso quotidiano e consueto dei pensieri, e di propria iniziativa porre un pensiero al centro dell'anima. Non bisogna credere che debba essere un pensiero elevato o interessante. Ciò che va raggiunto sul piano occulto si consegue persino meglio se da principio ci sforziamo di scegliere il pensiero meno interessante e meno significativo possibile. Viene così più stimolata la forza autonomamente attiva del pensare, ed è questo che importa, mentre un pensiero interessante, al contrario, trascinerebbe con sé la mente per sua intrinseca forza. È meglio dunque che questa condizione del controllo dei pensieri venga attuata scegliendo come oggetto uno spillo, piuttosto che Napoleone. Ci si dice «Partirò da questo pensiero e per mia iniziativa interiore vi aggiungerò tutto quanto può esservi oggettivamente connesso». Alla fine del tempo prefissato, il pensiero deve stare dinnanzi all'anima ancora altrettanto colorito e vivido quanto al principio. Si faccia questo esercizio giorno dopo giorno, almeno per un mese. Ogni giorno ci si può proporre un nuovo pensiero, ma si può anche mantenere lo stesso soggetto per parecchi giorni. Alla fine dell'esercizio si cerchi di portare a piena consapevolezza l'interiore sentimento di solidità e di sicurezza che si potrà presto notare con sottile attenzione alla propria anima. Si concluda l'esercizio pensando al capo e alla linea mediana della schiena. Tra parentesi, cervelletto, midollo spinale. Chiusa parentesi. Come se si volesse riversare quel sentimento in questa parte del corpo. Dopo essersi esercitati così per un mese, ci si ponga una seconda regola. Si cerchi di immaginare un'azione qualsiasi che di certo non si compirebbe secondo le consuete abitudini di vita. Si trasformi questa azione in un dovere quotidiano. Sarà bene scegliere un'azione che possa essere compiuta ogni giorno per il più lungo tempo possibile. Anche qui sarà meglio se per cominciare sceglieremo un'azione insignificante alla quale ci si debba in qualche modo costringere. Per esempio, ci si prefigga di innaffiare ogni giorno a una determinata ora un fiore acquistato a quello scopo. Dopo qualche tempo, una seconda azione vada ad aggiungersi alla prima e poi una terza e così via finché lo si riesca a fare rispettando gli altri doveri giornalieri. Anche questo esercizio deve durare un mese ma per quanto sia possibile occorre praticare anche in questo secondo mese il primo esercizio sebbene non vada più considerato un dovere esclusivo come nel primo mese. Tuttavia, il primo esercizio non deve essere abbandonato altrimenti si noterà come i frutti del primo mese vadano ben presto perduti e come ricominci il vecchio flusso dei pensieri non controllati. Si deve fare molta attenzione che i frutti, una volta acquisiti non vadano più perduti. Quando, mediante questo secondo esercizio si sia realizzata un'azione di propria iniziativa con sottile attenzione si diverrà coscienti nell'anima di un sentimento di interiore impulso all'attività. Tale sentimento va riversato per così dire nel proprio corpo facendolo fluire dalla testa fino al cuore. Nel terzo mese si porrà al centro della vita un nuovo esercizio mirante a educare l'anima a un certo equilibrio rispetto alle oscillazioni tra piacere e sofferenza tra gioia e dolore. Il lanciarsi con gioia verso il cielo turbati sino alla morte deve essere consapevolmente sostituito da una equilibrata disposizione dell'anima. Si badi a non farsi trascinare da una gioia o a battere da un dolore a non farsi trasportare all'ira o alla collera smisurata da alcuna esperienza a non farsi riempire d'angoscia o di paura da nessuna attesa che nessuna situazione ci sconvolga e così via. Non si tema che questo esercizio renda aridi o apatici. Si noterà invece come al posto dei vecchi sentimenti sorgano nuove purificate qualità dell'anima. Grazie a una sottile attenzione si potrà un giorno avvertire in sé una quiete interiore. Come nei due casi precedenti si riversi questo sentimento nel corpo facendolo irradiare dal cuore alle mani poi ai piedi e infine alla testa. In questo caso non lo si potrà ovviamente fare dopo ogni singolo esercizio poiché in fondo non si ha a che fare con un singolo esercizio ma con una continua attenzione alla propria vita interiore dell'anima. Almeno una volta al giorno si dovrà richiamare davanti all'anima questa quiete interiore e poi intraprendere l'esercizio per farla fluire dal cuore. Gli esercizi del primo e del secondo mese non vanno tralasciati ma proseguiti come si è fatto nel mese precedente. Nel quarto mese si deve intraprendere un nuovo esercizio quello della cosiddetta positività che consiste nel cercare ciò che vi è di buono di eccellente di bello in tutte le esperienze le entità le cose. Questa qualità dell'anima è descritta nel modo migliore da una leggenda persiana sul Cristo Gesù secondo la quale mentre era in cammino in compagnia dei suoi discepoli vide sul ciglio della strada un cane morto in avanzato stato di putrefazione. Tutti i discepoli distorsero lo sguardo da quella vista ripugnante solo il Cristo si fermò pensoso considerò il cane e disse che denti meravigliosi ha questa bestia dove gli altri avevano veduto solo l'aspetto ripugnante repellente egli cercò il bello così il discepolo esoterico deve mirare a cercare l'aspetto positivo in ogni manifestazione e in ogni essere ben presto avrà modo di osservare che anche dietro una brutta veste vi è del bello nascosto che dietro il volto di un delinquente vi è nascosto del buono che nella maschera di un pazzo si cela in qualche modo l'anima divina questo esercizio è connesso con quel che si chiama astenersi dalla critica ciò non significa che si debba dire nero il bianco e bianco il nero vi è però differenza fra un giudizio che nasce unicamente dalla propria persona secondo simpatie o antipatie del tutto personali e un modo di vedere che si rivolge con amore al fenomeno sconosciuto o all'essere estraneo chiedendosi ogni volta come mai costui è giunto a essere e ad agire così un tale atteggiamento giunge da solo ad adoperarsi per aiutare chi è imperfetto invece di limitarsi a criticarlo e a biasimarlo né qui è valida l'obiezione che le condizioni di vita di molti esigono che essi esercitino biasimo o emetano giudizi perché allora bisogna dedurre che queste condizioni sono tali da impedire all'interessato una corretta educazione esoterica esistono in realtà condizioni di vita tali da rendere in larga misura impossibile un'educazione esoterica in tal caso non si dovrebbe pretendere con impazienza di compiere a tutti i costi progressi che possono essere conseguiti in effetti solo a determinate condizioni chi per un mese di seguito si indirizza coscientemente in tutte le proprie esperienze verso il positivo osserverà a poco a poco che nella sua interiorità si insinua una sensazione come se tutta la sua pelle divenisse permeabile da ogni parte come se la sua anima si aprisse ampiamente a tutti i processi sottili e occulti dell'ambiente che prima sfuggivano del tutto alla sua attenzione si tratta proprio di combattere la mancanza di attenzione che vi è in ognuno rispetto a tali manifestazioni sottili quando si sarà osservato che il sentimento descritto si manifesta nell'anima come una specie di beatitudine con il pensiero si cerchi di dirigere questo sentimento verso il cuore per farlo da lì fluire negli occhi e poi nello spazio davanti e attorno alla persona si noterà che si ottiene così un intimo rapporto con questo spazio si cresce per così dire al di là di se stessi si impara inoltre a considerare una parte del proprio ambiente come qualcosa che ci appartiene è necessaria molta concentrazione per questo esercizio e soprattutto riconoscere che ogni elemento tumultuoso passionale saturo di emotività agisce in modo distruttivo su questa disposizione d'animo per la ripetizione degli esercizi dei primi mesi ci si attenga alle indicazioni date per i mesi precedenti nel quinto mese si cerchi poi di educare in se stessi l'attitudine a porsi senza pregiudizi di fronte a ogni nuova esperienza il discepolo esoterico deve affrancarsi dal comune atteggiamento di chi dice per ogni cosa appena vista o udita non l'ho mai udita non l'ho mai vista non ci credo è un'illusione egli deve essere pronto ad affrontare in ogni momento esperienze completamente nuove ciò che fino ad ora ha considerato conforme alle regole ciò che fino a oggi sembrava possibile non deve costituire un vincolo per l'accoglimento di una nuova verità è espresso in forma estrema ma è assolutamente giusto che se qualcuno avvicina un discepolo esoterico egli dice sai il campanile della chiesa XY da questa notte è completamente inclinato il discepolo deve lasciare aperto uno spiraglio alla possibilità di credere che la sua conoscenza delle leggi naturali possa ancora essere ampliata grazie a tale fatto in apparenza inaudito chi nel quinto mese diriga la propria attenzione ad acquisire questa disposizione noterà che gli si insinua nell'anima una sensazione come se qualcosa diventasse vivente nello spazio di cui si è parlato a proposito dell'esercizio del quarto mese come se in esso qualcosa si destasse questo sentimento è molto fine e sottile si deve cercare di cogliere con attenzione questo sottile vibrare nell'ambiente e di farlo fruire attraverso tutti i cinque sensi in particolare attraverso gli occhi le orecchie la pelle in quanto essa contiene il senso del calore a questo stadio dell'evoluzione esoterica si presti minore attenzione alle impressioni inviateci dai sensi inferiori del gusto dell'odorato e del tatto non è ancora possibile a questo livello distinguere a sufficienza i numerosi cattivi influssi che si mescolano a quelli buoni che pure esistono in questo campo il discepolo rimandi perciò la cosa a un livello successivo nel sesto mese si deve tentare di intraprendere sistematicamente l'esecuzione di tutti e cinque gli esercizi in regolare alternanza si formerà così a poco a poco un armonioso equilibrio dell'anima si noterà ad esempio come la scontentezza e l'insofferenza verso il manifestarsi e l'essere del mondo spariscano del tutto per lasciare posto a una disposizione conciliante verso tutte le esperienze non si tratta di indifferenza ma di una nuova facoltà che ci rende capaci di lavorare nel mondo migliorando e progredendo si schiude all'anima una calma comprensione di cose che prima le erano del tutto celate anche il modo di camminare e i gesti mutano sotto l'influsso di questi esercizi e un giorno si noterà che persino la propria calligrafia ha assunto un nuovo carattere si può dire allora di essere in procinto di raggiungere il primo gradino del sentiero verso l'ascesi vanno ancora ricordate due cose la prima è che i sei esercizi hanno il potere di paralizzare l'effetto dannoso che possono avere altri esercizi occulti in modo che rimanga soltanto ciò che è benefico la seconda è che essi soltanto assicurano veramente l'esito positivo del lavoro di meditazione e di concentrazione per il discepolo esoterico non è sufficiente neppure la pura e semplice anche se conscienziosa osservanza della morale corrente poiché essa può essere molto egoistica quando ci si dica voglio essere buono per essere considerato buono il discepolo non fa il bene per essere considerato buono bensì perché riconosce per gradi che solo il bene fa progredire l'evoluzione mentre invece ciò che è malvagio brutto o sconsiderato pone grandi ostacoli sulla via dell'evoluzione brano tratto da indicazioni per una scuola esoterica opera omnia numero 245 editrice antroposofica secondo brano il ritmo e lo sviluppo spirituale in rapporto ai sei esercizi quali sono le forze che formano i fiori di loto da dove provengono sappiamo che durante il sonno le forze consumate dal corpo eterico e da quello fisico vengono rinnovate dal corpo astrale che per la sua irregolarità durante il sonno può equilibrare le irregolarità del corpo fisico e di quello eterico le forze che sono impiegate per superare le fatiche sono però le stesse che formano i fiori di loto chi inizia uno sviluppo culto sottrae perciò forze al proprio corpo fisico e a quello eterico distogliendo di continuo queste forze al corpo fisico egli si ammalerebbe e si troverebbe in uno stato di completo esaurimento per non danneggiarsi né fisicamente né moralmente deve sostituirle con qualcosa d'altro bisogna ricordare una regola universale il ritmo supplisce alla forza è un principio occulto importantissimo oggi l'uomo vive nella massima sregolatezza soprattutto nelle idee e nelle azioni chi si facesse coinvolgere e influenzare solo dal mondo esterno tanto dispersivo non potrebbe sottrarsi al pericolo di sottoporre il corpo fisico alla diminuzione di forze richiesta dallo sviluppo culto dovrà quindi fare in modo che nella sua vita penetri il ritmo non potrà certo regolare tutto in modo che un giorno trascorra uguale all'altro ma potrà esercitare con regolarità determinate attività chi si dedica allo sviluppo culto dovrebbe per esempio ogni mattina compiere esercizi di meditazione e di concentrazione in un'ora stabilita da lui stesso il ritmo si crea anche con la visione serale retrospettiva degli avvenimenti giornalieri se si riesce a introdurre altre ripetizioni ritmiche tanto meglio perché tutto questo si svolge secondo leggi universali l'intero sistema dell'universo scorre in un ritmo tutto nella natura è ritmo il corso del sole il succedersi delle stagioni del giorno e della notte e così via le piante crescono ritmicamente quanto più si sale tanto meno il ritmo lascia la sua impronta benché negli animali si possa scorgere ancora un certo ritmo per esempio ancora oggi l'animale si accoppia in determinati periodi dell'anno soltanto l'uomo conduce una vita caotica e aritmica la natura lo ha congedato egli deve ora in piena coscienza dare una nuova struttura ritmica alla sua vita caotica a tal fine gli si offrono determinati strumenti grazie ai quali può introdurre armonia e ritmo nei corpi fisico ed eterico a poco a poco essi saranno condotti a regolari oscillazioni che consentano loro di correggersi da sé anche quando fuoriesce il corpo astrale pur se durante il giorno furono sottrati al ritmo durante il riposo entreranno autonomamente in un corretto movimento tali mezzi consistono nei sei esercizi che vanno praticati accanto alla meditazione primo esercizio controllo dei pensieri consiste nell'imporre calma al corso dei pensieri anche solo per brevi periodi durante la giornata evitando che attraverso l'anima vaghino idee di ogni sorta si pensa a un determinato concetto e lo si pone al centro della vita di pensiero connettendovi tutti i pensieri che abbiano un nesso logico con esso riuscirvi anche solo per un minuto è già di grande importanza per il ritmo del corpo fisico e di quello eterico secondo esercizio iniziativa nell'azione significa imporre a se stessi doveri anche insignificanti purché scaturiti dalla propria iniziativa i motivi delle azioni derivano per lo più da relazioni familiari dall'educazione dalla professione eccetera si pensi quanto poco proviene da iniziativa personale ora si deve trovare nella giornata un po' di tempo per compiere azioni liberamente volute non occorre che siano importanti anche se insignificanti raggiungono comunque il loro scopo terzo esercizio il terzo si può chiamare equanimità si tratta di imparare a regolare l'oscillazione fra eccessi estremi tra l'esultanza e l'abbattimento chi non intende farlo perché ritiene che la sua spontaneità nell'agire o la sua sensibilità artistica andrebbero perdute non potrà appunto percorrere uno sviluppo culto equanimità significa essere padroni di se stessi tanto nella somma gioia quanto nel più profondo dolore si partecipa giustamente alla gioia e ai dolori del mondo se non ci si perde più ma ci si apre a essi in modo non egoistico i sommi artisti hanno raggiunto le più alte vette appunto con essersi conservati equanimi avendo in tal modo aperto la loro anima ad aspetti interiori sottili ed essenziali quarto esercizio assenza di pregiudizi con questa qualità si percepisce il bene in tutte le cose volgendosi sempre al loro lato positivo un ottimo esempio in proposito lo troviamo in una leggenda persiana sul Cristo il Cristo Gesù vide un giorno un cane morto che giaceva per via egli si fermò a osservarlo i suoi discepoli invece a quella vista voltarono la faccia e si scostarono pieni di ribrezzo allora il Cristo esclamò che bei denti bianchi ha quest'animale non vide il brutto e persino in un cadavere seppe trovare qualcosa di bello i denti bianchi se siamo in questo stato d'animo cercheremo in ogni cosa le qualità positive il bene e lo troveremo ovunque questo agisce in modo potente sul corpo fisico e su quello eterico quinto esercizio fede in senso occulto questa parola esprime qualcosa di diverso da ciò che si intende comunemente chi segue uno sviluppo occulto non dovrà mai basarsi nel giudizio sul proprio passato per determinare il futuro per lo sviluppo occulto in certe circostanze si dovrà lasciare da parte tutto ciò che si è già sperimentato per guardare con atteggiamento fiducioso qualsiasi nuova esperienza l'occultista deve farlo coscientemente se per esempio qualcuno venisse a dirci che il campanile della chiesa pende che si è inclinato di 45 gradi chiunque direbbe che è impossibile ma l'occultista deve sempre lasciare aperto uno spiraglio arriverà anzi al punto di credere a qualunque evento gli venga incontro nel mondo altrimenti si chiuderebbe la strada verso nuove esperienze bisogna rendersi liberi da tutto per poterle accogliere il corpo fisico e l'eterico vengono allora portati a uno stato confrontabile alla beatitudine di un animale che stia a covando sesto esercizio equilibrio interiore grazie alle altre cinque qualità l'equilibrio interiore nasce da sé a poco a poco l'uomo deve porsi come meta queste sei qualità prendendo in mano la propria vita in un lento ma continuo progresso secondo il detto goccia goccia si scava la pietra se con qualche sorta di artifici magici ci si appropria di forze superiori senza tener conto di tutto questo ci si troverà in una condizione pericolosa nella vita di oggi l'elemento spirituale e quello corporeo sono mescolati fra loro come due liquidi di diverso colore in un medesimo bicchiere con lo sviluppo culto a inizio un processo analogo a quello che il chimico mette in atto per separare di nuovo i due liquidi in modo simile si separa l'elemento animico da quello fisico ma vanno così perduti i benefici di quell'unione finché l'anima è inserita nel corpo fisico l'uomo corre meno in rischio di lasciarsi andare a passioni addirittura grottesche a causa della separazione può tuttavia accadere che il corpo fisico rimanga abbandonato a se stesso e alle proprie tendenze portando a eccessi di ogni sorta in un uomo che si dedichi allo sviluppo culto ma non all'educazione delle virtù morali potrebbero in effetti venire alla luce disposizioni negative che altrimenti non si sarebbero mostrate improvvisamente diventerà bugiardo collerico vendicativo si manifesteranno caratteristiche che prima era riuscito a moderare è già accaduto veramente quando privi del necessario sviluppo morale ci si è occupati troppo degli insegnamenti teosofici questo brano è tratto da alle porte della scienza dello spirito opera omnia 95 terzo brano i fondamenti di una disciplina esoterica primo controllo dei pensieri bisogna rendersi liberi almeno cinque minuti ogni giorno per riflettere su un pensiero del tutto insignificante che ci appaia privo di interesse collegando in modo logico tutto il pensabile sull'oggetto è importante che l'oggetto sia insignificante poiché è proprio lo sforzo che ci si impone di perseverare a lungo su di esso a risvegliare le forze essoppite dell'anima dopo un certo tempo si osserva nell'anima un sentimento di fermezza e di sicurezza non bisogna però immaginare che questo sentimento ci sorprenda in modo impetuoso no è un sentimento sottile molto delicato che si deve imparare ad ascoltare quelli che ritengono di non essere capaci di provare in sé questo sentimento assomigliano a coloro che vanno a cercare tra tanti oggetti uno molto piccolo delicato essi cercano ma superficialmente e non riescono a trovarlo perché non lo vedono bisogna in silenzio sapere ascoltare se stessi allora lo si sente esso si presenta soprattutto nella parte anteriore della testa quando lo si sia sentito in quel punto bisogna riversarlo in pensieri nel cervello e nel midollo spinale a poco a poco si ha la sensazione di raggi che vadano dalla parte anteriore della testa fin nel midollo spinale secondo iniziativa nell'azione per questo esercizio bisogna scegliere un'azione concepita da se stessi chi per esempio sceglie come esercizio di innaffiare un fiore che nella regola è indicato quale esemplificazione fa un'azione senza scopo l'atto deve infatti nascere dalla propria iniziativa e va concepito da se stessi in questo esercizio si osserva ben presto una sensazione come posso compiere qualcosa ho più capacità di prima sento un impulso all'azione che viene avvertito realmente in tutta la parte superiore del corpo si cercherà allora di farlo fluire fino al cuore terzo essere superiori al piacere e al dispiacere qualcuno si troverà per esempio ad avere voglia di piangere questo è il momento di fare l'esercizio con tutte le proprie forze bisogna costringersi a non piangere la stessa cosa vale per il ridere si cerchi quando ci viene da ridere di non ridere ma di rimanere calmi non significa che non si debba più ridere ma bisogna sapersi dominare essere signori del ridere e del piangere quando ci si è trattenuti alcune volte si avverte un sentimento di pace e di equanimità bisogna lasciar scorrere questo sentimento attraverso tutto il corpo e passarlo dal cuore alle braccia e alle mani affinché attraverso le mani irradi nelle azioni poi lo si lascia scorrere verso i piedi e alla fine verso la testa questo esercizio esige una seria auto-osservazione che dovrebbe essere eseguita per almeno un quarto d'ora al giorno quarto positività bisogna cercare un briciolo di bontà in tutto ciò che è malvagio in ogni bruttura la bellezza in ogni delinquente la scintilla divina si prova allora il sentimento di espandersi oltre la propria pelle è un sentimento simile al divenire più grandi come lo ha il nostro corpo eterico dopo la morte quando lo si prova lo si deve lasciar fluire da se stessi attraverso gli occhi attraverso le orecchie e attraverso tutta la pelle ma soprattutto attraverso gli occhi quinto assenza di pregiudizi bisogna essere sempre mobili sempre capaci di accogliere novità se qualcuno ci racconta qualcosa che riteniamo inverosimile dobbiamo lasciare che nel nostro cuore ci sia un angolino in cui diciamo costui può anche avere ragione non significa diventare acritici in quanto abbiamo sempre la possibilità di verificare si prova così la sensazione di una corrente che si riversa in noi dall'esterno dobbiamo assorbirla attraverso gli occhi le orecchie e tutta la pelle sesto equilibrio le cinque precedenti sensazioni devono essere ora portate ad armonizzarsi ponendo molta attenzione a tutte nella stessa misura non è detto che questi esercizi vadano seguiti ciascuno per un mese andava comunque suggerito un certo tempo è importante soprattutto eseguire gli esercizi nell'ordine indicato chi per esempio fa il secondo esercizio prima del primo non ne trae nulla di positivo perché proprio l'ordine di successione è importante molti pensano persino di dover iniziare dal sesto esercizio l'equilibrio ma come si può armonizzare qualcosa che ancora non esiste gli esercizi non servono affatto a chi vuole eseguirli fuori dall'ordine dato è come se dovendo fare sei passi sopra una passerella si volesse cominciare dal sesto è altrettanto insensato voler iniziare dal sesto esercizio brano tratto da indicazioni per una scuola esoterica opera omnia 245 quarto brano l'importanza dei sei esercizi di fronte ai rischi dello sviluppo occulto vi è però una forza dell'evoluzione occulta che conduce vicino alla possibilità che il corpo fisico e il corpo eterico richiamino entro di sé forze di distruzione in fondo è sempre così quando l'uomo ha l'incontro con il guardiano della soglia l'incontro con il guardiano della soglia non è affatto possibile senza il pericolo di immettere in certo modo forze di distruzione nel proprio corpo fisico e nell'eterico però ogni giusta evoluzione occulta crea nello stesso tempo i rimedi essi sono dati in quelli che nella mia scienza occulta sono indicati come i sei esercizi complementari occulti concentrazione del pensiero cioè forte applicazione dei propri pensieri raccoglimento concentrato dei propri pensieri sviluppo di una certa iniziativa della volontà di un certo equilibrio di piacere e dolore una certa positività nel rapporto con il mondo una certa imparzialità in chi coltiva queste qualità nella propria anima in parallelo all'evoluzione occulta si sviluppa veramente da una parte una specie di aspirazione del corpo fisico e del corpo eterico a frantumarsi cioè ad accogliere germi di morte sotto l'influsso dell'evoluzione occulta nella stessa misura in cui si sviluppa questa tendenza viene annullata e quindi non è mai veramente attiva se sviluppiamo le qualità menzionate oppure se attraverso l'evoluzione morale abbiamo comunque sufficienti qualità che uguaglino quelle sei brano tratto da lo sviluppo culto dell'uomo nelle sue quattro parti costitutive opera omnia 145 quinto brano le qualità dell'anima necessarie a una giusta disciplina ogni giusta disciplina indica alcune qualità che per mezzo dell'esercizio devono essere acquistate dal discepolo in cerca della via verso i mondi spirituali superiori prima di tutto la padronanza dell'anima sulla direzione dei propri pensieri sulla volontà e sui sentimenti il modo con cui questa padronanza deve essere acquistata per mezzo dell'esercizio mira a un doppio scopo da un lato l'anima deve acquistare con quel mezzo tale fermezza sicurezza ed equilibrio da essere capace di conservare queste qualità anche dopo la nascita del secondo io dall'altro il secondo io deve venire provvisto di un viatico di forza e di fermezza interiore per la disciplina spirituale è innanzitutto necessario che il pensiero dell'uomo sia conforme ai fatti obiettivo nel mondo fisico sensibile la vita è incaricata di ammaestrare l'io umano all'obiettività se l'anima lasciasse errare qua e là i suoi pensieri a piacere verrebbe ben presto corretta dalla vita a meno di volersi mettere in conflitto con questa l'anima deve conformare i suoi pensieri alla realtà dell'esistenza ma quando l'uomo distoglie l'attenzione dal mondo fisico sensibile gli viene a mancare il relativo correttivo e se allora il suo pensare non è in grado di correggere se stesso si abbandonerà alla confusione il pensiero del discepolo spirituale deve perciò esercitarsi in modo da prefiggersi la propria direzione e il proprio scopo la saldezza interiore e la capacità di concentrarsi esclusivamente sopra un oggetto ecco le qualità che il pensare deve tendere ad acquistare per questo gli esercizi della meditazione non si devono cercare in oggetti lontani o complicati ma facili e familiari chi riesce a fissare il suo pensiero durante vari mesi almeno per cinque minuti al giorno sopra un oggetto di uso quotidiano per esempio una spilla una matita eccetera e ad escludere durante quel tempo ogni altro pensiero che non si riferisca a quell'oggetto avrà fatto molto per raggiungere il suo scopo si può pensare tutti i giorni a un nuovo oggetto oppure conservare il medesimo per vari giorni anche chi sente di essere un pensatore a seguito della sua formazione scientifica non deve disprezzare questo modo di rendersi maturo per l'educazione occulta se infatti si fissa il pensiero per qualche tempo sopra un oggetto familiare si può essere sicuri di pensare obiettivamente chi si chiede di che cosa è costituita una matita come viene preparato il materiale che costituisce la matita come vengono connesse le sue diverse parti quando è stata inventata la matita e così di seguito chi pensa a quel modo armonizza le proprie idee con la realtà molto più di chi riflette sopra la discendenza dell'uomo o su ciò che è la vita gli esercizi semplici del pensiero ci preparano molto meglio a orientarci nelle evoluzioni di saturno del sole e della luna che non le idee complicate ed erudite perché in un primo tempo non si tratta affatto di pensare questa o quella cosa ma di pensare obiettivamente per virtù di forza interiore se ci si è educati all'oggettività con un processo fisico sensibile facile da osservare il pensare si abitua a voler essere obiettivo anche quando non si sente più dominato dal mondo fisico sensibile e dalle sue leggi si perde l'abitudine di lasciare errare i pensieri in modo non conforme alla realtà l'anima deve diventare padrona non soltanto nel mondo dei pensieri ma anche nel campo della volontà nel mondo fisico sensibile è sempre la vita che si presenta come dominatrice facendo sentire agli uomini questa o quella necessità così che la volontà si sente stimolata a soddisfare tali richieste per la disciplina superiore l'uomo si deve abituare a obbedire severamente ai propri ordini a chi ci si abitua accadrà sempre meno di desiderare cose inutili la scontentezza e l'instabilità nella vita della volontà provengono dal desiderio di cose della cui realizzazione non ci formiamo un chiaro concetto quando l'io superiore nasce nell'anima tale scontento può turbare tutta la vita affettiva un buon esercizio è quello di darsi per dei mesi un ordine a una determinata ora del giorno oggi a questa determinata ora tu dovrai compiere questa azione si arriva così gradatamente a imporsi l'ora dell'azione e la maniera di attuarla in modo che l'esecuzione riesca assolutamente possibile ci si eleva in tal modo al di sopra della cattiva abitudine di dire desidero questo o desidero quello senza riflettere affatto sulla possibilità di effettuare quel desiderio un grande fa dire a una veggente amo chi aspira all'impossibile tra parentesi Goethe Faust secondo chiusa parentesi e il medesimo Goethe dice vivere nell'idea significa considerare l'impossibile come se fosse possibile tali detti non devono essere considerati come obiezioni a ciò che è stato qui esposto perché alla richiesta di Goethe e della sua veggente manto può dare soddisfazione soltanto chi prima si sia educato a desiderare ciò che è possibile e così facendo si sia reso capace di trattare l'impossibile mediante una forte volontà in modo da renderlo possibile nei riguardi del mondo dei sentimenti l'anima del discepolo deve acquistare una certa calma è necessario per questo che sappia padroneggiare l'espressione del piacere e del dispiacere della gioia e del dolore contro l'acquisto appunto di questa facoltà possono essere sollevate molte obiezioni si potrebbe temere di diventare insensibili e indifferenti al mondo che ci attornia non rallegrandosi della gioia e non addolorandosi del dolore ma non si tratta di questo una cosa piacevole deve rallegrare l'anima e una cosa triste deve riuscirle penosa l'anima deve soltanto arrivare a dominare l'espressione della gioia e del dolore del piacere e del dispiacere se si tende a questo ci si accorgerà ben presto che invece di diventare indifferenti si diventerà anzi più ricettivi di quanto prima non si fosse per tutta la gioia e il dolore che ci attorniano per riuscire ad acquisire quelle qualità occorre però sorvegliarsi per lungo tempo e imparare a prendere completamente parte alla gioia e al dolore senza abbandonarvi sia il punto da dare involontare espressione ai propri sentimenti non bisogna reprimere il legittimo dolore ma il pianto involontario non l'orrore di un'azione malvagia ma il cieco sfogo della collera non il giusto premunirsi di fronte a un pericolo ma l'inutile timore e così via soltanto per mezzo di tale esercizio il discepolo consegue l'intima calma necessaria per evitare che dopo la nascita dell'io superiore o meglio dopo l'inizio della sua attività l'anima come una specie di doppio svolga vita malsana accanto all'io superiore in questo campo appunto non bisogna abbandonarsi a nessuna illusione su se stessi alcuni si possono già credere provvisti nella vita di un determinato equilibrio e ritengono perciò superflui quegli esercizi sono invece quelle persone che ne hanno maggiormente bisogno esse possono veramente rimanere del tutto calme di fronte agli eventi della vita ordinaria ma quando ascendono nel mondo superiore ritorna con maggior forza a manifestarsi la mancanza di equilibrio che era stata soltanto repressa occorre assolutamente convincersi che per la disciplina spirituale non si tratta di ciò che ci sembra già di possedere ma piuttosto importa esercitare regolarmente le qualità che ci occorrono per quanto queste parole possano sembrare contraddittorie non di meno sono giuste la vita può averci insegnato tante cose ma per l'educazione spirituale occorrono le qualità che da noi stessi ci siamo acquistate se la vita vi ha reso irascibili dovete spogliarvi di tale irascibilità ma se la vita vi ha insegnato l'imperturbabilità dovete scuotervi per mezzo dell'auto educazione in modo che l'espressione dell'anima corrisponda all'impressione ricevuta chi non è capace di ridere di niente domina altrettanto poco la propria vita quanto colui che si abbandona continuamente al riso senza dominarsi per educare il pensiero e il sentimento vi è un altro mezzo e cioè l'acquisto della facoltà che si può chiamare positività in una bella leggenda viene raccontato che il Cristo Gesù mentre camminava con alcune persone trovò sulla strada la carogna di un cane gli altri distolsero lo sguardo da quella brutta vista e il Cristo invece parlò con ammirazione dei bei denti dell'animale possiamo esercitarci a sviluppare nell'anima nostra un atteggiamento rispetto al mondo conforme a quello indicato dalla leggenda l'errore il male il brutto non devono mai impedire all'anima di riconoscere il vero il buono e il bello ovunque si trovi non bisogna confondere questa positività con la mancanza di critica con la volontà di chiudere gli occhi al male al falso e al mediocre chi ammira i bei denti di una carogna vede anche il corpo in decomposizione ma questo non gli impedisce di vedere i bei denti non è possibile ritenere che il male sia bene o che l'errore sia verità ma il male non deve impedirci di vedere il bene né l'errore di scoprire la verità il pensare unito alla volontà acquista una certa maturità purché l'uomo non permetta alle esperienze antiche di togliergli la ricettività per accogliere spregiudicatamente quelle nuove per il discepolo dello spirito non deve esistere il pensiero questo non l'ho mai sentito questo non lo credo ma deve e anzi dedicarsi per un determinato tempo a imparare qualcosa di nuovo da ogni cosa e da ogni essere ogni soffio d'aria ogni foglia d'albero ogni balbettio infantile ci può insegnare qualcosa purché si osservi da un punto di vista nuovo certamente è facile esagerare a tale riguardo e a una certa età ma non bisogna trascurare di tener conto delle esperienze attraversate ciò che si sperimenta attualmente deve essere giudicato alla stregua delle esperienze raccolte nel passato queste devono pesare sopra un piatto della bilancia mentre sull'altro il discepolo deve porre la sua tendenza a raccogliere sempre nuove esperienze convinto soprattutto della possibilità che le esperienze nuove possano essere in contraddizione con le antiche abbiamo così enumerato cinque qualità dell'anima che il discepolo dell'occultismo deve acquisire a mezzo di una regolare disciplina la padronanza del pensiero il dominio sugli impulsi volitivi l'imperturbabilità di fronte al piacere e al dispiacere la positività nel giudicare il mondo la spregiudicatezza nella concezione della vita il discepolo dopo essersi dedicato per qualche tempo di seguito all'esercizio di queste qualità dovrà anche armonizzarle nella propria anima occorrerà perciò che egli le eserciti simultaneamente per gruppi di due di tre e così via fino a conseguire l'armonia desiderata brano tratto da la scienza occulta nelle sue linee generali opera omnia 13 e così via la scienza occulta 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 la scienza occulta